Riunito, pochi giorni dopo la sua definizione, il tavolo di lavoro per stabilire le linee guida del nuovo lungomare fanese. Il progetto, dal nome Waterfront, vedrà lo stanziamento di 100.000 euro da parte dell'amministrazione comunale per un concorso internazionale di idee. A coordinare i lavori, il sindaco di Fano Massimo Seri, che in apertura di seduta ha espresso la volontà di giungere a questo percorso un completo ripensamento del fronte mare e delle sue funzioni, attraverso non solo una riqualificazione dei luoghi, ma raccogliendo le sfide ecologiche, turistiche e di qualità del vivere. L'amministrazione ha intenzione di investire per la riqualificazione di alcuni tratti della spiaggia, del fronte mare, alcune risorse che sono importanti, alcuni milioni di euro, per poter riqualificare, migliorare tutta una serie di situazioni che vanno a dare un po' più di prestigio alla nostra città. Dobbiamo rendere più attrattiva la nostra città, in parte per quello che abbiamo fatto al Pincio, la città è anche più attrattiva e quindi vogliamo continuare migliorando e sistemando il fronte mare. Abbiamo, individueremo i prossimi mesi delle parti da riqualificare, pensiamo anche al sud del Metauro e pensiamo al centro città e quindi imbandieremo questo concorso internazionale di idee. Ovviamente le linee guida sono sempre quelle, rendere la città più attrattiva, promuovere gli investimenti nel settore della ricettività turistica, valorizzare la parte storica del porto che è una componente importante soprattutto nella zona centro e di ampliare l'accessibilità al fronte mare razionalizzando anche la mobilità. Ovviamente in tutto questo percorso coinvolgeremo quanta più gente possibile, inizialmente sicuramente andranno coinvolti gli operatori, soprattutto gli operatori economici, con particolare riferimento agli operatori del settore della ricettività turistica, ma non ci scordiamo certamente anche di chi vive in alcune zone della città, quelle di fronte al mare, al porto, a Sassoni, a Lido, perché ovviamente saranno protagonisti di questo percorso. È un percorso a cui noi crediamo tantissimo, un percorso a cui affidiamo, come abbiamo detto, un premio importante che poi andrà a definire chi sarà il più bravo architetto in base alla selezione che faremo, poi lo studio di architettura e l'architetto ci produrrà anche un progetto che potremmo finanziare nel giro di breve tempo.